Salve a tutti, sono Giuseppe Ferraro, il capo comico della compagnia Facimice Narrasata di Barra. Sono il tecnico audio e luci della compagnia Facimice Narrasata. Il teatro è una grandissima, stupenda e bellissima cosa, in quanto si esprime tutto quello che ognuno di noi ha all'interno, anche attraverso i personaggi, attraverso le storie dei personaggi. Quindi lo consiglio a tutti, specialmente ai più piccoli, in quanto può essere sicuramente un'esperienza bellissima. Sono scelto di fare teatro perché mi ha aiutato a superare i miei ostacoli e a mettermi in gioco. Fare teatro significa fare un'esperienza, significa fare cultura, conoscere persone nuove, dagli attori al pubblico. È proprio un'esperienza che ti fa crescere, ti fa maturare tantissimo. Per me è un gioco, perché poi con Giuseppe abbiamo la possibilità di calcare tante volte il palco scenico insieme. Ho scelto di fare teatro perché credo che, avendo la possibilità di poter fare vari ruoli, quindi ogni personaggio ha le sue emozioni, che cerco di esprimere e portarle in scena il meglio possibile, ho anche la possibilità di poter esprimere le mie emozioni e di cercare di farle capire al pubblico. E consiglio a tutti di fare il teatro per ti dare la possibilità di poterti esprimere anche in maniera differente con le persone. Sono due anni che sto in compagnia con lui. Non sono per niente una persona che riesce ad esternare le proprie emozioni, ma il teatro in questo mi ha aiutato. Ed è per questo che io spingo spesso anche più piccoli a fare teatro, anche seppur amatoriale. Ho cominciato a recitare quando avevo dieci anni e non pensavo che un ruolo così banale all'elementare potesse portarmi a sviluppare questa grandissima passione che ho per il teatro. Per me recitare è esprimere le mie emozioni attraverso altre persone, ovvero quelle che interpreto, e dar voce anche ai miei desideri più profondi. Ho iniziato a fare teatro da piccolina, principalmente per aiutarmi un po' con l'ansia, perché sono una persona molto timida, anche ansiosa, e quindi quando sono sul palco diciamo l'ansia c'è sempre, però è comunque sempre meno, e quindi vorrei spingere ad altre persone timide e ansiose come me a farlo, perché a me ha aiutato moltissimo e potrebbe aiutare anche altre persone. Fare teatro per me significa soprattutto osare. Fare qualcosa che nella vita ordinaria non immagineremo mai neanche di pensare. Fare teatro ci migliora la vita attraverso quella degli altri. Fate teatro. Ho deciso di fare teatro per tantissimi motivi, elencarli tutti sarebbe un po' impossibile, ma un motivo su tutti c'è, ovvero quello di interpretare più vite. Aiuta a migliorare la mia vita. Fate molto teatro. Il teatro vi aiuta soprattutto nelle relazioni con le persone. Aiuta a far riuscire il vostro vero carattere. Ciao a tutti! Vi aspettiamo a teatro! Vi aspetto a teatro, al Teatro Pompeo Cent'anni, a Barra a Dicembre, con un nuovo spettacolo. Non mancate!